Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video Se mi vedete tutta bardata in questo mondo è perché sto per uscire e sto per andare alla stazione centrale Per prendere il treno, se partirà perché in questi giorni c'è un sacco di casino per la neve eccetera Insomma sto per andare a Bologna perché stasera ho il concerto di Chainsmokers Quindi ho deciso di portarvi insieme a me, spero che vi possa interessare Ci vediamo là Ciao a tutti Stiamo partendo di San De Vic e Mari, c'è Ruola Ciao, siamo carichi però Ah, stiamo arrivando a me Io ho tutto congelato credo Siamo entrate e non so come sono Che è più spina tipo Ciao a tutti No, 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 no I'm gonna keep my eyes We've got love in our hopeless days 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 Three, two, one, drop! I'm gonna keep my eyes 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 Go into the jungle here I can change you Say you never let me go Say you never let me go No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Grazie a tutti 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 Driu rispondimi Buongiorno ci siamo svegliate ora E adesso andiamo a fare un giro per Bologna E quello stronzo di Driu non mi ha risposto Cioè io veramente Driu Mi stai deludendo Ragazzi facciamo una petizione Mi facciamo scrivete tutti gli addirittura di rispondermi grazie E basta E basta Ricordiamo per Bologna con noi Siamo arrivata la stazione un'ora e mezzo prima del treno perché fuori fa troppo freddo e aspettiamo qua sulle panchine E comunque la stazione di Bologna è brutta ragazze Non c'è niente Non c'è niente Noi pensavamo di fare un giro per i negozi Niente Noi pensavamo di fare un giro per i negozi Noi pensavamo di fare un giro per i negozi